vi porto i saluti da lampi e del 25 aprile la nostra festa purtroppo quest'anno non si non si può commemorare non si può fare come facciamo di solito faremo quello che si può però io volevo purtroppo c'è questa cosa qui dalla pandemia di questo virus che ha fatto uno sterminio e dobbiamo rimanere nelle cose nei termini di legge non si può fare commemorare come facevamo di solito volevo fare onorare purtroppo i compagni che sono che sono morti di questa pandemia pippo caruba giorgio tedesco ferrando remo persone che io condiviso delle cose molto importanti dei momenti dei momenti belli mi porterò questi ricordi nei miei pensieri e niente abbiamo fatto qualche donazione e noi come ampi ci siamo se quello che c'è bisogno interveniamo per quello che possiamo e vi auguro a tutti un buon 25 aprile è una situazione purtroppo è drastica ma affronteremo qualsiasi cosa anche questa battaglia